Ora la parola a Tommaso Montanari, storico dell'arte. Vi preghiamo con i capanelli in fondo di provare a, se volete parlare, spostarvi in qualche altro luogo perché abbiamo qualche problema di audio e nelle ultime file non stanno sentendo bene. Grazie. Lo storico che vorrà tra un po' di tempo ricostruire in essi fra crisi della democrazia o nascita della post-democrazia e neoliberalismo in Italia avrà buon gioco nel dare uno spazio centrale a un documento del maggio del 2013, un documento della banca d'affare JP Morgan di cui forse vale la pena di rileggere qualche passaggio. All'inizio della crisi, scrivono i banchieri, si pensava che i problemi nazionali fossero di natura economica ma poi si è capito che erano problemi di natura politica. Le costituzioni e i sistemi politici dei paesi della periferia meridionale dell'Europa sorti in seguito alla caduta del fascismo hanno caratteristiche non adatte al processo di integrazione economica. Queste costituzioni mostrano una forte influenza socialista riflesso della forza politica che le sinistre conquistarono dopo la sconfitta del fascismo. Perciò questi sistemi, tra cui il nostro, hanno queste caratteristiche che vanno risolte. Governi deboli rispetto ai parlamenti, stati centrali deboli rispetto alle regioni, tutela costituzionale del diritto al lavoro, consenso basato sul clientelismo politico, diritto di protestare contro ogni cambiamento. La crisi è la conseguenza di queste caratteristiche, ma qualcosa sta cambiando, test essenziale sarà l'Italia dove il nuovo governo può impegnarsi in importanti riforme politiche, chiuse virgolette. Allora, questo è per intero il programma del governo Renzi, salvo per la lotta al clientelismo politico che è invece lo strumento attraverso cui attuare tutte le altre cose che i banchieri prospettano all'Italia nel maggio 2013. Uscire dalla crisi uguale uscire dalla democrazia. È piuttosto impressionante che in un articolo del Corriere della Sera, firmato da quello che seguiva il Quirinale con Napolitano, si dice che esplicitamente bussola del Presidente della Repubblica è il documento, tra le altre cose, il documento della J.P. Morgan. Dal mio punto di vista, questo è il punto centrale e credo che per questo il referendum è una battaglia veramente cruciale, che segnerà un prima e un dopo nella storia di questo Paese. Perché è il punto in cui si decide se il progetto del mercato sul nostro Paese passa o non passa. E se passa, tutto quello che noi faremo in tutte le direzioni in cui stiamo discutendo in questi giorni sarà terribilmente più difficile. Quello è un collo fondamentale, una strettoia fondamentale in cui combattere e vincere. Dal mio punto di vista, di umanista, di storico dell'arte, di professore di un'università ancora pubblica, proprio in un dibattito televisivo di ieri sera, ho sentito un consigliere economico del Presidente del Consiglio dire che l'università deve uscire dal contratto pubblico. E questo è quello che aspetta l'università italiana e poi tutto il resto a breve scadenza. Dal mio punto di vista, il punto certo è l'attacco diretto al patrimonio e al paesaggio, al progetto dell'articolo 9 della Costituzione. Il governo dello sblocca Italia, il referendum sulle trivelle, ne abbiamo appena parlato, e l'importanza di andare a votare a quel referendum. Lo smontaggio programmatico della tutela materiale del patrimonio culturale, la legge Madia che sottopone le sovrintendenze ai prefetti, la tutela del Paese affidata dalla Costituzione al sapere tecnico delle sovrintendenze, non una tecnocrazia, un sapere tecnico al servizio del futuro del patrimonio, viene spostato sotto i prefetti, salta un altro contrappeso del potere esecutivo, con la riforma costituzionale saltano la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica, oltre a molti altri contrappesi, per quanto riguarda il governo del territorio saltano le sovrintendenze a favore delle prefetture. Il definanziamento della ricerca dell'università, l'attacco diretto all'articolo 9, i musei che diventano Luna Park, con direttori che sono mercenari del mercato internazionale al servizio diretto del potere politico che li ha nominati. Ma, accanto a questo, accanto all'attacco diretto, c'è un attacco più centrale, mi pare, più insidioso, proprio nel segno del documento da JP Morgan, e soprattutto l'attacco ai nessi fra l'articolo 9 e potremmo dire l'articolo 3. Il fatto che nel nostro sistema la cultura, il diritto alla cultura, non è un fine in sé, è uno strumento fondamentale per la costruzione dell'eguaglianza sostanziale, e per quello che l'articolo 3 chiama il pieno sviluppo della persona umana. Se io dovessi dire, spero che sia la bussola della sinistra che nasce oggi, è proprio il pieno sviluppo della persona umana. L'essere umano non come mezzo, ma come fine. Cosa che mi pare distingua il progetto della sinistra da quello della destra e da quello del populismo indistinto. L'essere umano, la persona, come un fine politico. Allora, la partita è quella intorno all'articolo 1. A chi appartiene la sovranità? Appartiene al mercato? Ai mercati internazionali? O appartiene al popolo, cioè ai cittadini? Da questo punto di vista, è la cultura e la conoscenza giocata in questo sistema di valori fondamentali a dare degli strumenti essenziali per l'esercizio di questa sovranità. Allora, la ricerca è fondamentale per costruire un modo diverso di pensare. La pubblicità della più grande compagnia telefonica italiana, della Tim, dice in questi giorni, se ci scegli avrai la libertà di non dover scegliere più, la libertà di non dover scegliere più, questo è il modo con cui si pensa di vendere un prodotto. Ecco, noi dobbiamo costruire la libertà di scegliere ancora e questa libertà di scegliere ancora si costruisce attraverso gli strumenti della ricerca, della cultura intesa come conoscenza, come strumento di ricostruzione della sovranità. Questo nesso forte tra difesa della cultura, del paesaggio, del patrimonio e democrazia è un nesso evidente in negativo nella politica di questo governo. Qual è stato il claim, lo slogan dello sblocca Italia? Padroni in casa propria, è un vecchio slogan fascista recuperato dalla destra xenofoba dell'est europeo, poi Berlusconi l'aveva usato nel 2001 per il piano casa. Padroni in casa propria è la libertà texana sul territorio opposta all'idea di sovranità dei cittadini. Quando Calamandrei, Piero Calamandrei, sfollato in Umbria, trova un libro, dalla libreria che non era sua, che è il mulino del Po di Riccardo Bacchelli e lo legge e nei suoi diari ne scrive una lunga e bellissima recensione privata, viene colpito da una frase di uno dei protagonisti negativi di destra del mulino del Po, il Barone, che dice il mio modello di buon governo è quando tutti sono padroni in casa propria e uno solo comanda in piazza. C'è un nesso fortissimo fra la verticalizzazione autoritaria e l'idea di dare mani libere sul territorio e sul paesaggio e di trasformare la cultura in una sorta di intrattenimento che rivolga i cittadini verso un privato chiuso e li porti via dalla politica che può cambiare le cose. Calamandrei, dopo la liberazione e torna a Firenze come rettore dell'università, riunisce i suoi studenti nell'aula magna dell'università, chiede agli americani di fare ricominciare le lezioni subito tra le macerie e dice un paese riparte studiando, facendo ricerca. quel discorso bellissimo che in cui si parla non di diritto, Calamandrei è un giurista, ma si parla di paesaggio e di patrimonio culturale, si chiama così, l'Italia ha ancora qualcosa da dire. Allora l'Italia in cui non ci sono padroni ma custodi del futuro, l'Italia che ha ancora qualcosa da dire, spero che sia il messaggio di questi giorni. Grazie. Ora la parola a Sandro Mezzadra dell'Università di Bologna. Grazie. Grazie a Carlo Galli e Laura Bazzicalupo per queste due relazioni così intense e così problematiche che siamo chiamati a commentare. una politica creativa è quella di cui ha bisogno oggi un nuovo soggetto di sinistra, questo ci ha detto Carlo Galli. Sottolineerei che questa politica creativa è particolarmente necessaria nel momento in cui ci troviamo di fronte a trasformazioni profondissime tanto all'interno dello scenario globale quanto in Europa quanto in Italia. trasformazioni profondissime che configurano una vera e propria terra incognita in cui è bene non dare per scontato il significato delle stesse parole che utilizziamo quotidianamente per pensare, per parlare, per praticare la politica, a partire da democrazia e da sinistra. ci troviamo oggi all'interno di un mondo nuovo, di un mondo dove ad esempio l'occidente non è più il centro indiscusso ma ci rendiamo conto della trasformazione epocale che questo comporta. certo in una situazione che è caratterizzata da guerra, da terrore, da caos per riprendere ancora qualche elemento dalla relazione di Carlo Galli. ma non ci sono soltanto guerra, terrore, caos, ci sono delle sfide straordinarie a cui siamo chiamati a rispondere e ci sono delle sfide straordinarie perché ovunque nel mondo ci sono donne e uomini che nella loro quotidianità lottano per dare un significato nuovo a parole come democrazia e come sinistra. ovunque nel mondo anche nel caos medio orientale, nel caos siriano ci sono esperienze in questo momento a cui possiamo riferirci in uno scenario come quello siriano. evidentemente ci sono esperienze di questo genere, c'è l'esperienza di Rojava, l'esperienza di Rojava che abbiamo seguito, a cui abbiamo partecipato senza nessuna mitologia, badate bene, senza nessuna concessione alle vecchie retoriche dell'internazionalismo, della solidarietà internazionale, ma l'abbiamo seguita scoprendo in quei territori delle straordinarie pratiche di costruzione di qualcosa che torna a dare un senso alla parola democrazia nella quotidianità, nella vita delle persone. Bene, oggi Rojava è sotto attacco dall'esercito turco, da parte dell'esercito turco, da parte di un paese, la Turchia di Erdogan, che contemporaneamente l'Europa sta cercando di trasformare in un avamposto avanzato del suo regime di trasformazione dei confini. Che tipo di iniziativa è possibile assumere per contrastare questo tipo di sviluppi e per esprimere in modo molto concreto, materiale, solidarietà con un'esperienza come quella di Rojava. è evidente, per anticipare un punto su cui concluderò il mio intervento, che c'è bisogno di un'iniziativa trasnazionale che sia in grado di fare effettivamente pressione sui centri di potere da cui nascono queste politiche di controllo dei confini. C'è bisogno di un'iniziativa che si ponga immediatamente sul terreno europeo. Caos, grandi sfide, grandi movimenti. Ma che cosa c'è dietro a questo scenario? Ci sono naturalmente molte cose, ma una deve essere sottolineata in modo particolare credo. C'è una trasformazione profondissima del capitalismo. Nominiamo il capitalismo e nominiamo le sue trasformazioni. Il capitalismo oggi è profondamente mutato di fronte a quello che in Europa occidentale ha reso possibile un'esperienza, certo limitatissima, soprattutto in paesi come l'Italia, quale quella dello Stato sociale democratico. Non torneranno più quei tempi, perché il capitalismo oggi è profondamente mutato. Nuovi soggetti, nuovi centri di comando, nuove logiche di accumulazione e di valorizzazione. Se non comprendiamo questo mutamento, se non lo mettiamo al centro della nostra ricerca, è davvero molto difficile riprendere un cammino che si riferisce a un termine come sinistra. E dobbiamo domandarci che cosa significa costruire un contropotere capace di fare fronte a questo nuovo capitalismo che ormai da decenni è esondato rispetto alla dimensione nazionale. Oppure dobbiamo anche domandarci che cosa significa oggi lotta di classe a fronte di queste trasformazioni del capitalismo. e come la lotta di classe può mettere capo a una forma politica capace di affrontare, ripeto, in modo efficace il dispotismo del capitale all'interno della società, per citare ancora l'intervento di Carlo Galli. Una nuova politica deve essere inventata a partire da questo tipo di domande e dalla tenace, ostinata determinazione a dare delle risposte pratiche nella quotidianità, nell'agire quotidiano a queste domande. può lo Stato essere l'orizzonte, l'orizzonte privilegiato di una politica di questo genere? Io non credo, ma non lo credo non per ragioni ideologiche, ma perché penso che in queste grandi trasformazioni del capitalismo che abbiamo vissuto negli ultimi 30-40 anni, come è cambiato il capitale? è cambiato anche lo Stato e non ci sono oggi le condizioni per costruire resistenza efficace nei confronti dei processi di finanziarizzazione, nei confronti del neoliberalismo, a partire dallo Stato nazionale Somebody said come base esclusiva, guardate, lo hanno imparato in America Latina, i governi progressisti in questi ultimi 10-15 anni. E dunque credo sul terreno europeo che deve essere collocata la grande questione della possibilità di dare un senso nuovo alla stessa parola sinistra, di dare un senso nuovo alla parola democrazia, di produrre una invenzione democratica che sia all'altezza dei problemi di fronte a cui ci troviamo. Ma che cosa vuol dire assumere il piano europeo come terreno privilegiato dell'iniziativa politica? Significa abbandonare i territori, significa abbandonare le città, i municipi, significa abbandonare lo Stato, la dimensione nazionale? Ma evidentemente no! Significa essere in grado di sviluppare un'azione politica capace di attraversare tutti questi piani, compreso quello importantissimo dello Stato nazionale, per riuscire attraverso un processo cumulativo fatto anche di rotture a determinare un intervento efficace sul livello europeo su cui si articola in fondo il potere che domina le nostre vite. Credo che questo sia un problema fondamentale che dobbiamo porci per realismo politico, un problema fondamentale e chiudo perché il mio tempo è giustamente scaduto, che non possiamo pensare di affrontare semplicemente a partire dalla costruzione di un soggetto politico immaginato come partito. Da questo punto di vista ho sentito delle cose su cui sono assolutamente d'accordo, tanto da Carlo Galli quanto da Laura Bazzicalupo, credo che il problema sia molto presente anche a molti dei promotori di questa iniziativa. Un partito può essere di importanza fondamentale, ma soltanto nella misura in cui è capace di aprirsi a ciò che sta fuori da sé senza pensare di fagocitarlo. E quello che sta fuori dal partito è oggi quello su cui si gioca la possibilità di reinventare la democrazia, di reinventare il comune in questa nostra Europa. Non c'è invenzione democratica senza la diffusione di uno spirito di rivolta in Europa. Di questo c'è bisogno e dobbiamo essere consapevoli. Vi ringrazio. Grazie Ora la parola a Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra Italiana Avete mai visto una foto del planisfero di notte? Io credo che bisognerebbe studiare la geografia sulle foto notturne del planisfero terrestre, perché è esattamente su quella fotografia che è disegnata la geografia delle disuguaglianze. Si vede una parte del pianeta totalmente illuminata e una parte quasi completamente al buio. Ed è questo il mondo in cui viviamo e la fotografia più emblematica di un mondo grande e terribile che oggi attraversa una fase di transizione storica del capitalismo. La potremmo definire, ripartendo dalle relazioni che abbiamo ascoltato, l'età del caos. Cioè quel periodo storico in cui le trasformazioni del capitalismo, le contraddizioni del capitalismo esplodono tutte contemporaneamente in maniera virulenta, travolgendo anche le categorie tradizionali con cui noi abbiamo classificato e categorizzato alcuni fenomeni. pensiamo alle migrazioni, come è cambiata la natura dei flussi migratori negli ultimi dieci anni, che cosa è significato passare dalle migrazioni economiche che avevano numeri contenuti e che fanno parte della natura umana a quelle che oggi invece sono migrazioni forzate e anche nella rappresentazione pubblica immaginate solo come migrazioni legate a guerre, mentre in realtà noi sappiamo che oggi la maggior parte delle migrazioni forzate sono legate a processi di impoverimento e soprattutto a grandi cambiamenti climatici che stanno desertificando un pezzo intero del continente africano. Ecco, 60 milioni di persone nel 2020, queste sono le previsioni, lasceranno l'Africa sud-sahariana per spostarsi verso il Nord Africa e l'Europa, perché oggi, per fare un esempio, il lago Chad, che riforniva di acqua tutti i paesi della zona dell'Africa occidentale, la Nigeria e il Chad stesso, ha appena 1.400 chilometri quadrati di estensione, mentre negli anni 60 ne contava 25.000 chilometri quadrati di estensione. E quei processi di desertificazione oggi, anche qui, la geografia delle disuguaglianze, se noi andiamo a vedere la carta geografica dei processi di desertificazione e la sovrapponiamo alla mappa dei conflitti, scopriamo che quella mezzaluna che avvolge tutta l'Africa subsahariana e il Medio Oriente, che sono le zone del pianeta più colpite dai processi di desertificazione, quelle due cartine, quelle due mappe coincidono perfettamente. E allora oggi è questa la lettura che dovremmo provare a dare del mondo che viviamo. E anche la guerra dentro questa dinamica cambia le categorie storiche a cui siamo stati abituati. La guerra mondiale a pezzettini o la guerra globale che si gioca in un pezzettino di terra in Siria in questo momento è la prima guerra, forse, tra quelle che abbiamo vissuto in questi anni che non si gioca per il petrolio. Non siamo davanti a una guerra che è combattuta per il petrolio, ma siamo davanti a un conflitto combattuto prevalentemente per l'egemonia globale ma combattuto anche per mantenere il caos come strumento di governo e tale caos per giustificare lo stato di eccezione in cui ci costringono a vivere. Ed è così che si definisce anche la nostra società, l'Europa, così come ci veniva raccontata nelle relazioni, l'Europa che viene lentamente fagocitata da questo stato di eccezione in cui anche i principi democratici cominciano a venire meno e che appunto diventa uno degli epicentri di questa tempesta che sta attraversando il mondo, di questa crisi che sta attraversando il mondo. E così noi abbiamo oggi un grande punto interrogativo davanti a noi che è davanti a questo scenario, a questo quadro così fosco esiste ancora la speranza che tutto questo possa essere fermato e questo è il tema a cui penso noi dovremmo dare una risposta. Ebbene oggi, esattamente là, nel punto meno ospitale dove nessuno potrebbe immaginare un esperimento di questa natura, lì al confine tra la Siria e la Turchia è nata una delle più grandi esperienze di democrazia e di partecipazione e di libertà che il pianeta abbia mai conosciuto, che è l'esperienza della Repubblica del Rojava. Una Costituzione che io vi invito a leggere, una Carta dei Principi che mette al centro l'essere umano e la dignità della persona come elemento fondativo di una società. Il rispetto dell'ambiente e lo fa lì, in mezzo a un conflitto che ha cancellato completamente anche le regole basilari dei conflitti. Lì, in un luogo dove eserciti della Nato compiono ogni giorno violazioni sistematiche dei diritti umani e commettono crimini contro l'umanità nei confronti della popolazione kurda. Lì, nel Rojava, nel punto dove meno ce l'aspettavamo, è nata una speranza. Qui, in Europa, in uno dei momenti più bui per la storia del nostro continente e della nostra comunità, qui, in questa Europa, nascono focolai di speranza. Abbiamo tutti quanti avuto le palpitazioni in questo straordinario e complicato 2015 che ha visto alcune delle esperienze più drammatiche per la storia del nostro continente ma anche alcune delle esperienze più interessanti e vitali per la democrazia e per la sinistra. Abbiamo avuto tutti noi le palpitazioni durante la straordinaria esperienza e prova democratica del referendum greco. Quella è una speranza per l'Europa. E continuiamo ancora ad avere le palpitazioni quando vediamo quello che sta accadendo in Spagna e la sfida che stanno lanciando quei ragazzi di Podemos all'establishment della politica spagnola ed europea, accettando anche la sfida del governo ma ponendo una condizione. Il governo o è utile al cambiamento o è qualcosa che bisogna battere. E così potremmo continuare e potremmo cominciare a guardare anche nel nostro Paese le tante esperienze che in ogni territorio animano una speranza. E io credo che noi dovremmo da qui oggi uscire con l'idea che stiamo provando a mettere in campo la sinistra e la speranza. E la sinistra e la speranza è quella che è il coraggio di dire che il mondo lo vogliamo cambiare che così com'è non va bene e non lo vogliamo solo migliorare o aggiustare. E' quella che è il coraggio come noi oggi di dire che anche quando tutte le condizioni sembrano avverse si ha il coraggio di riprendere il cammino e di sventolare anche dove sembra inopportuno la bandiera della democrazia, la bandiera della pace e la bandiera della libertà. Questa è la sfida che parte oggi da Cosmo Politica, questa è la sfida che dobbiamo accettare tutti assieme a partire dal giorno 22. Grazie a tutti e buon cammino. Grazie a Erasmo Palazzotto, ora Michela Cerimele ricercatrice, poi si prepara Michele Piras e poi avremo un video. Cari compagni e cari compagni, intanto buonasera a tutti e un grazie a chi mi ha preceduta. Una notazione, apriamo queste tre giorni con proposte di lettura dei grandi temi che caratterizzano la fase e secondo me si tratta di una scelta importante perché le proposte che mettiamo in campo per leggere la fase alludono al tema importante della ricostruzione di una cultura politica che è un passaggio centrale per qualunque progetto o prassi trasformatrice si voglia mettere in campo ed è chiaramente centrale dentro questo passaggio che noi si torni all'esercizio di un punto di vista autonomo sulla realtà che prenda anche le mosse dalla critica dell'apparato ideologico di mascheramento della realtà. ora il mio intervento si situa dentro due solchi che sono stati già nominati prima di me, quello di quale sia lo spazio della sinistra nella crisi della democrazia e quello di come si faccia a riorganizzare la rivincita in modo massiccio. dunque io credo che democrazia, neoliberalismo, ripresa dell'iniziativa debbano rimanere in rapporto stretto con quello che è oggi il capitalismo contemporaneo e con la aggressività capitalistica che ha caratterizzato l'ultimo quarantennio e quindi mi sembra che qui dentro, dentro questa problematica che è una problematica di sinistra debbano ritrovare cittadinanza i temi del conflitto e del lavoro e dico conflitto e non dico conflitti e non a caso perché io credo che il grande tema oggi sia quello di come si fa a riportare la nostra dialettica al livello dello scontro, come si fa a riorganizzare un punto di vista autonomo, complessivo a tutti i livelli e qui secondo me la grande questione è come si generalizza il conflitto stesso inteso a tutti i livelli, come si ripoliticizza il conflitto stesso e quindi come si ripoliticizza paradossalmente l'iniziativa politica e come si torna alla democrazia in quanto arena di trasformazione sociale. Io perché dico conflitto e lavoro? Perché penso che il lavoro rimanga un elemento di mediazione centrale del passaggio che dobbiamo effettuare dal multiverso delle stanze, delle rivendicazioni, delle soggettività che sono pure nate giustamente all'interno del quarantennio neoliberale in un universo politicamente efficace. Ora a me sembra che si possa sul tema del lavoro semplicemente imparare dal nemico, a me sembra che l'attacco al lavoro, l'erosione delle sue basi materiali, l'annichilimento del lavoro in quanto soggetto politico siano stati la persistente centralità di quello che noi definiamo il costrutto neoliberale, sono state la sua centralità sia dal punto di vista dell'applicazione delle politiche neoliberali a livello mondo che dell'applicazione delle politiche neoliberali nel tempo. L'attacco al lavoro è stato una centralità laddove per altri versi le politiche neoliberali si sono invece espresse in maniera anche abbastanza diversificate. Forse e d'altra parte mi sembra che da un punto di vista della ricostruzione storica di dove ha origini quello che definiamo neoliberalismo sia innegabile che c'è stato un elemento focale tra la fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, quando la riorganizzazione capitalistica, l'internazionalizzazione dei circuiti dell'accumulazione e la finanziarizzazione dell'economia prendevano una direzione su cui era impresso il conflitto capitale e lavoro. Dove stiamo andando in termini di rapporto tra capitale e lavoro? Secondo me ce lo spiegano oggi bene i paesi che sono al di fuori dell'Europa, perché io sono una ricercatrice che studia l'Asia, quella che viene definita la fabbrica del mondo, il cuore economico del mondo. Beh lì si vede chiaramente che cos'è una relazione tra capitale e lavoro non mediata da niente. Lì si vede chiaramente che un contratto a tempo determinato, indeterminato, può diventare sistematicamente temporaneo per esaurimento fisico e mentale delle persone che lavorano. Lì si vede sistematicamente che qualunque tipo di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato, diventa un'arena di produzione, di vulnerabilità e anche di povertà. Dunque questa mi sembra una variabile persistentemente centrale di quello che chiamiamo neoliberalismo. L'altra centralità, che a me sembra fatalmente collegata a questa prima, è stato il tentativo che ha innervato l'intero quarantennio neoliberale di espellere le masse dalla politica e dai centri di decisione economica. La ripresa del tema della democrazia nel consenso internazionale, perché negli anni 70 era crisi della democrazia, lo sappiamo bene dal rapporto della trilaterale. Negli anni 80 la democrazia ritorna ad essere menzionata ed anzi il consenso internazionale dice che la democrazia è lo scopo di tutti e tutte. Però la ripresa del tema della democrazia in questo consenso mi sembra fatalmente collegata alla sconfitta delle forze del lavoro, come ci dicono lavori bellissimi come quelli di Beverly Silver. Una volta sottratta il conflitto, la democrazia da arena, da un conflitto capace di generalizzarsi. La democrazia da arena contestata tra forze del cambiamento e forze della conservazione viene restituita al mercato e alla supremazia indiscutibile delle sue libertà. E qui sul tema della democrazia a me sembra di poter vedere un lungo periodo dalla commissione trilaterale alla chiusura degli accordi di libero scambio cui siamo oggi di fronte. Ne parliamo forse troppo poco. Nell'Asia Pacifico si è concluso un accordo di libero scambio di 12 paesi che si chiama TTP e che copre il 40% del PIL globale. Si sta concludendo un accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ebbene, dentro questi accordi di libero scambio ci sono dei dispositivi di reingegneria definitiva di quelle che sono le relazioni tra lo Stato, la società e il mercato. Dispositivi di coerenza regolatoria al ribasso dove si può immaginare e lo si sta facendo che gli Stati possono essere chiamati, citati in giudizio da una corporation, da una multinazionale se vengono lesi i profitti attesi o realizzati dall'investitore. Ora, quando io provo a mettere l'accento sulla questione del lavoro, come dicevo prima, non è perché io penso necessariamente che questa sia oggi una soggettività prevalente nel nostro campo. Non penso neanche che sia necessariamente, inerentemente il soggetto della trasformazione sociale. A me sembra che oggettivamente il lavoro sia stato una preoccupazione centrale del sistema neoliberale, un centro di attacco nevralgico su cui il pensiero e le pratiche neoliberali hanno insistito a imbuto. E di fatto, sullo stesso piano del pensiero, di quello che noi chiamiamo il pensiero o il movimento intellettuale neoliberale, non è possibile davvero rintracciare una coerenza totale. Si tratta di un corpus dottrinario molto variegato. E chiaramente il neoliberalismo non è l'inverazione diretta di un corpus dottrinario, a meno che non pensiamo che la prassi trasformatrice proceda a partire dal pensiero. È stato un corpus dottrinario però che è riuscito a declinare e a mettere in campo un campo semantico talmente vasto nel quale, secondo me, noi stessi ci siamo qualche volta e rischiamo di trovarci imbrigliati. Il neoliberalismo e il pensiero neoliberale riesce a declinare tutto, dal ritorno allo Stato, alla centralità della democrazia, alla centralità della società civile, alla centralità della partecipazione, anche alla questione della redistribuzione sociale, quando l'impoverimento è eccessivo perché il capitalismo ha bisogno di un po' di stabilità sociale. Però rimane inflessibile sul principio della supremazia del mercato, rimane inflessibile sul principio del profitto che deve rimanere variabile, indipendente e rimane inflessibile sul problema del soggetto lavoro che non deve riemergere dalle ceneri della storia. E d'altra parte l'unica cosa che il pensiero neoliberale non declina è proprio la questione del conflitto, il conflitto a partire dalla questione del lavoro e non essendo questa una categoria suscettibile di depurazione dal punto di vista politico, la manovra in questo caso è stata di spungerla al discorso e io penso che questo non dobbiamo farlo, benché questa non sia una questione di esclusività, ma questo non dobbiamo farlo, altrimenti rischiamo di porre un'eterna compatibilità con il sistema che pensiamo di voler combattere. Non posso, mi dicono quel tempo è scaduto, quindi salto un pezzo che attiene, che accenno appena perché un pezzo attiene a quello che io intendo per lavoro e per mondo del lavoro, che deve tessere le alleanze al suo esterno, che deve provare a coagulare il multiverso, dicevo, dei conflitti sociali, sottraendoli dall'arena della rivendicazione particolare e restituendoli all'arena della critica, della logica di sistema e della trasformazione democratica della società. Quando io dico lavoro in questo senso, che crea alleanze al suo esterno, io penso a un lavoro che crea ovviamente anche alleanze al suo interno, il lavoro come alleanze tra segmenti diversi, dove non stiamo qui facendo un'indagine sociologica per decidere qual è il segmento del lavoro più precario o più vulnerabile e non stiamo cercando di capire qual è il soggetto e il segmento del lavoro necessariamente capace di imprimere una trasformazione sociale. Il lavoro come alleanze e quindi come risposta massiccia e compatta alla frammentazione che viene creata, quindi non adesione alla frammentazione ma risposta alla frammentazione. Un'ultima cosa, qui io non sto parlando di un ritorno a un dogmatismo economicista, io credo che il terreno della critica al capitalismo e il terreno della progettualità del lavoro e per il lavoro necessitino comunque del coraggio dell'autocritica, tenendo vivo l'orizzonte della libertà umana nel suo senso più pieno. Penso però sinceramente che l'iniziativa non possa che riprendere da questo campo e credo che la partita si giocherà sulla nostra capacità di riagganciare fondamenti, la nostra coesione di parte e poi esercitare lì sopra tutta la flessibilità di cui siamo capaci. Grazie. Grazie Michela Cerimele, ora per l'ultimo intervento di questa sessione Michele Piras, deputato di Sinistra Italiana. Prima cosa, wow, a vedervi in questa sala, io ho dieci secondi anche, forse solo dieci del mio intervento, le dedicherei a chi ci ha creduto in questo appuntamento, a chi ci ha lavorato, a chi ha allestito la sala, a chi ha costruito, che bisogna sempre ricordarcelo che dietro questi momenti c'è chi ci lavora e c'è chi ci crede, questo forse è il lascito più bello di una cultura politica e anche la speranza più bella per il futuro. 500.000 morti, 2 milioni di feriti e 6 milioni di sfollati senza casa, è l'ultimo dato aggiornato su quello che accade in Siria dal 2011 a oggi. La Nato, tra le altre cose che mi tocca fare, diciamo, non con grande piacere, c'è anche quello di partecipare all'assemblea parlamentare della Nato, l'organismo consultivo e politico, quindi ci arrivano anche queste informazioni, la Nato si prepara a costruire una base nuova in Polonia, all'ASK e adottare quella nazione, sulla linea del confine di fatto con la Russia, di nuovi missili a lunga gittata che sostituirebbero quelli esistenti e rafforzerebbero non solamente la protezione di quella nazione ma anche in funzione aggressiva. Terza cosa, dove è nata l'Isis? L'Isis nasce in Iraq, concorriamo noi a costruirla, l'Iraq che era anche, l'Iraq e la Siria, il cuore del primo califato, ma l'Iraq che è anche il luogo dove abbiamo scatenato due guerre negli ultimi vent'anni. Perché questi tre fotogrammi? Per dire che io credo che innanzitutto il fallimento dell'Europa stia qui, stia al suo interno e stia ai suoi confini, che il fallimento dell'Europa assume oggi, più di ieri, ma immediatamente dopo il crollo del muro di Berlino, la cifra della guerra. E sembra quasi una maniera autistica di continuare ad andare avanti e ripetere gli stessi errori, che quasi ci fa pensare, come ha detto bene Erasmo Palazzotto prima, che in realtà questa strategia di governo è precisamente quella perseguita, cioè quella del caos, altrimenti non si spiegherebbe com'è che l'Europa in queste settimane, in questi mesi di un conflitto, di una terza guerra mondiale che sta dirompendo su scala planetaria, che sta uccidendo, devastando amplissime aree del pianeta, come sia possibile che l'Europa continua a ritorcersi, a discutere al suo interno senza trovare una soluzione. Non si spiegherebbe, non si spiegherebbe se non nel collasso dell'Europa, non si spiegherebbe se non nel collasso dei sistemi di valori che quell'Europa ha voluto. Noi pensavamo che l'Europa fosse l'invenzione della pace, la diffusione dei valori sociali, della solidarietà, del lavoro, dei buoni diritti civili. Ci ritroviamo con ben altra cosa e se andate a ripercorrere la storia di questi vent'anni, immediatamente dopo il crollo del muro di Berlino inizia una stagione di guerra che oggi percepiamo con maggior intensità rispetto al passato. Poteva essere l'Europa dei diritti civili, è diventata l'Europa del traffico di armi, è diventata l'Europa spregevole, ridicolo come il nostro Paese di fronte all'assassinio di Giulio Reggeni non riesce a rinunciare agli affari neanche di fronte alla nostra meglio gioventù, neanche di fronte alla nostra meglio gioventù si pone un problema degli affari che noi facciamo con un regime dittatoriale che dovrebbe essere anche il nostro punto di riferimento per risolvere la questione libica che non riusciamo a risolvere perché anche quella l'abbiamo creata noi. Allora punto primo io direi da dove si ricostruisce la sinistra, da dove si ricostruisce l'Europa, basta guerre, basta guerre perché ne abbiamo fatte troppe, basta guerre perché abbiamo ucciso noi troppe persone, basta guerre perché dove passa la guerra non si crea pace né democrazia, non si esporta diritto e democrazia, si esporta ulteriore guerra, ulteriore violenza, ulteriori morti e basta far prevalere la logica dell'economia sui diritti delle persone dovunque essi si trovano nel pianeta. Perché io un punto anche su questo di carattere etico, morale lo direi quando noi facciamo affari col Qatar e poi però non ci preoccupiamo, Qatar in questi giorni compra Meridiana, salva una compagnia aerea italiana, la prima compagnia aerea privata italiana, compra interi pezzi di sistema sanitario della mia isola e nessuno che ponga un problema sui flussi di finanziamento che da quello Stato vanno ad alimentare le casse dell'Isis. Dovremmo dirlo noi perché la verità diceva Gramsci è rivoluzionaria, io penso che la verità sia il principio di qualsiasi rivoluzione noi volessimo provare a fare perché di questo che c'è bisogno e se voi andate a vedere la storia della sinistra nel continente europeo, quella comunista, quella socialdemocratica e andate a vedere la storia dell'Europa, il declino dell'Europa, i due declini si intrecciano, corrono paralleli e poi si intrecciano, il declino del pensiero della sinistra, delle sinistre in Europa e il declino dell'Europa sono due processi che corrono paralleli, allora a maggior ragione dovremmo ricostruire la sinistra, a maggior ragione dovremmo provarci, io sogno semplicemente questo, una sinistra che sia capace di dire la verità in faccia a chi ci governa, la verità in faccia al mondo che rimetta al centro le persone, gli uomini, le donne, i loro diritti che è una sinistra laica, una sinistra aperta, una sinistra plurale, allora io non credo, parafrasando un capo indiano che noi dovremmo considerare la sinistra come un'eredità dei nostri padri e semmai un prestito che ci hanno dato per i nostri figli e io ai miei figli vorrei dedicare questa esperienza che stiamo iniziando oggi, che spero si allarghi a macchio di leopardo, a macchia d'olio, che vada in ogni territorio, che coinvolga più persone, che restituisca protagonismo, abbiamo bisogno per noi stessi e per i nostri figli di restituire qualcosa di grande, qualcosa che partecipe a livello europeo, a ricostruirla, quell'Europa che volevamo, che abbiamo sognato, quella che abbiamo pensato che nel novembre dell'89 potesse diventare più ampia, più bella, più pacifica, più colorata, noi dobbiamo ricostruirla quell'Europa, allora non basta dire più Europa, bisogna ricominciare dagli strumenti, bisogna ricominciare a parlare parole di pace, bisogna ricominciare a distruirci, bisogna ricominciare ad agitarci, bisogna ricominciare ad organizzarci, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, di tutta la nostra intelligenza e di tutta la nostra forza. Grazie. Grazie.